Buongiorno qui dal Parlamento Europeo da Bruxelles, grazie che mi date questa opportunità per raccontarvi in due minuti quello che stiamo facendo noi per quanto riguarda il risanamento, la ricostruzione degli edifici in giro per l'Europa. Io penso che la ristrutturazione di tutti gli immobili sia un obiettivo soprattutto locale, Clima House fa vedere quanto è importante l'azione locale sull'argomento, però serve anche una cornice europea. L'Unione Europea ha firmato l'accordo di Parigi, quindi l'Unione Europea è obbligata ad implementare questo accordo. Lo stiamo facendo con la cosiddetta legge sul clima, prevediamo che le emissioni di CO2 e di gas serra in generale devono essere abbattute del 55% entro il 2030 e questo continente, l'Unione Europea ha l'obiettivo di diventare neutro per quanto riguarda l'emissione di gas serra entro il 2050. Per fare questo sicuramente bisogna intervenire anche sugli edifici, oggi il riscaldamento, il raffreddamento, tutto quello che gira intorno all'uso energetico degli edifici contribuisce al 36% alle emissioni di gas serra e con questo si utilizza il 40% dell'energia disponibile o dell'energia che utilizziamo. Le ristrutturazioni vanno lentamente, abbiamo attualmente un tasso di ristrutturazione dell'1%, l'obiettivo è di raddoppiare velocemente nei prossimi anni questa cifra e di avere almeno 35 milioni di edifici ristrutturati entro il 2030, questo anche per raggiungere i nostri obiettivi importanti. Questo tra l'altro non creerà o non contribuirà solo ad avere meno emissioni di gas serra, questo porterà anche a case più vivibili, più belle, quindi più accoglienti anche per chi ci vive e tra l'altro sarà anche un vettore importantissimo per l'economia, noi prevediamo che almeno 160 mila posti di lavoro saranno creati se acceleriamo così come previsto. Quindi io spero veramente che Klima House, anche voi, potete dare un contributo a questo obiettivo importante. Io penso che Klima House abbia dimostrato come si possa lavorare e contribuire anche a livello locale a questi obiettivi e sono sicuro che andrà avanti a fare così. Saluti da Bruxelles.